Da quando Diletta Leotta è diventata mamma, della piccola aria avuta con l'Oris Carius sta vivendo emozioni e sensazioni del tutto nuove. La conduttrice è diventata mamma per la prima volta il 16 agosto, il giorno del suo 32esimo compleanno, e da allora tutto è cambiato. Adesso che manca un mese o poco più a Natale, l'emozione inizia a farsi sentire. Inebriare i sensi, ovvero immergersi in odori familiari, è tra le prime sensazioni che determinano l'atmosfera natalizia. Diletta Leotta lo sa bene, tant'è che ha mostrato per la prima volta l'albero di Natale alla sua piccola aria, riprendendo la scena con un video dal cellulare. Al prossimo episodio